Buonasera a tutti, sono Don Ernesto, parroca del santuario, del nostro santuario Maria Assunta in cielo, Madonna di Casandrino. Ecco, è mio dovere, è mio piacere porre tanti, tanti auguri di una buona e santa Pasqua a tutta la comunità di Casandrino, a tutto il paese di Casandrino. Ci apprestiamo a vivere la settimana santa, siamo in fervore dopo questo periodo di quaresima dove ognuno di noi ha contribuito a questo ascesi verso il Signore con i propri fioretti, le proprie offerte a Dio. Questa settimana che verrà ci fa guardare la luce, la luce che è Cristo. Cristo è morto per noi, Cristo ha sofferto per noi, sembrava tutto perduto, incontreremo tra poco il giovedì santo, l'orto del Giazzemani, il venerdì, la passione e la morte, ma poi ringraziamo Dio, Gesù, l'amore ha vinto e domenica festeggeremo la Pasqua. E la Pasqua è la Pasqua di risurrezione, allora vi auguro una buona risurrezione a tutti, sia per quanto riguarda la vita personale, sia per quanto riguarda la famiglia, che il Signore veramente ci aiuti a risorgere tutti. Come cristiani, tutti stiamo vivendo un momento difficile in questa storia di oggi, in queste cose che succedono nel mondo, i cristiani che purtroppo stanno vivendo tante difficoltà, tante persecuzioni, e allora veramente che sia una Pasqua di risurrezione, che ognuno di noi senta che Cristo è morto e risorto per lui, per lei. Tanti, tanti auguri a tutti gli ammalati, a tutti gli anziani, a tutte le persone sole, a tutte le famiglie in difficoltà. Coraggio, se Dio è risorto significa che possiamo risorgere anche noi, in ogni situazione, in ogni difficoltà della vita. E poi tanti auguri anche ai nostri fratelli e amici di Trenton, in New Jersey, in America. Vi faccio tanti auguri qua da Casandrino, questo è il vostro santuario, questa è casa vostra. Abbiamo questi mezzi di comunicazione che accorciano le distanze. Io vi faccio gli auguri a nome di tutti i casandrinesi, sapendo che le distanze chilometriche, sì, possono creare un po' di malinconia, ma la distanza che accorcia la Madonna di Casandrino tra noi e voi è minima, quasi nulla. Perché? Perché veramente i cuori sono uniti. Tanti, tanti, tanti auguri di una santa e felice Pasqua. Arrivederci.